Ancora qui in studio con Dillo Aschitulli, sorridevamo un po' alla mail, ricordavamo ancora la mail dei Geki, ma io non sono Piero Angela, lo voglio garantire. Allora, andiamo avanti con le mail, beh, questa è una delle situazioni che ci fanno davvero sorridere poco. Un padre che ci scrive è un padre di tre figli, disoccupato dal 2004, che cerca di dare alla propria famiglia una vita dignitosa, trascorrendo le sue giornate a cercare o ad inventare un lavoro. Ad oggi ho bussato a tante, anzi troppe porte, ci scrive ancora questo telespettatore, ma il risultato è stato sempre lo stesso, me le hanno chiuse dicendomi di essere ormai troppo anziano. È mai possibile, si chiede quest'uomo, che all'età di 50 anni una persona si debba riassegnare perché la nostra Italia non ha lavoro per queste leve che hanno scritto la storia? Per questo motivo chiede un incontro con lei, sperando che lei possa in qualche modo riuscire a far sorridere un'altra famiglia, Presidente. Io sono disponibile ad ascoltare, vedere nei limiti molto stretti come posso intervenire, come posso prendermi cura di questa situazione, ma al di là di tanto purtroppo non ho alcun potere, non ho alcuna facoltà, non ho alcun mezzo per aiutare concretamente. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto? Sì, buonasera. Buonasera, senta, vorrei fare delle domande al Presidente Schittulli. Sì, sì, prego. Dunque, io sono una residente di Adelfia. Noi da un po' di anni, da 4-5 anni, viviamo una situazione molto disagiata. Allora, abitiamo quasi nel centro del paese, non so se lei lo conosca. Ecco, abbiamo un canalone che sono 4 anni che non viene mai pulito. Avevano promesso, centro-sinistra, quando hanno incominciato i lavori della ferrovia, che avrebbero fatto anche lì dei lavori. Noi viviamo questa situazione veramente nel disagio, con serpenti, vipere che ti entrano nei giardini, topi che vengono a partorire nei nostri giardini. Non possiamo uscire, abbiamo bambini che abbiamo paura a portare per strada. E' veramente una situazione che dà pietà. Non sappiamo a chi rivolgerci. Adesso l'amministrazione è caduta, non abbiamo più un sindaco, non sappiamo più cosa fare. Ci dica lei. Grazie mille per il suo intervento. Intanto è bene che si rivolga comunque al Commissario che è il responsabile dell'attività amministrativa del Comune di Adelfia. Lì, dopodiché io credo che bisognerà fare degli interventi senza dubbio di bonifica e quindi di riparare questa situazione. E' una competenza, da quello che mi è sembrato di capire, di esclusiva pertinenza del Comune di Adelfia. Ripeto, di rivolgersi a Commissario. Magari Presidente, però lei può farsi portavoce, o se non lei, anche l'assessore all'ambiente della provincia di Bari, per risolvere questa situazione, se non altro anche per i bambini che giustamente non possono convivere con situazioni di grado di questo tipo. Ma non ha competenze l'assessore provinciale. Sarebbe come se dicessi, rivolgetti allora l'assessore regionale perché l'assessore regionale possa intervenire sul Comune. E il Comune è lì dove occorre un intervento a livello provinciale o regionale e il responsabile dell'amministrazione comunale che se ne fa carico e lo trasmette. No, dicevo semplicemente, magari anche una telefonata per sollecitare un intervento, perché magari la telefonata di un assessore può essere un po' pincisiva rispetto al video d'allarme lanciato ai cittadini. Vorremmo che non fosse così, però non possiamo escludere nulla. Insomma, sarebbe una voce in più che si aggiunge a questo video d'allarme. Adelfia comunque ha dei rappresentanti anche politici di alto livello. recentemente faccio i miei auguri, anche il consigliere provinciale che è il capogruppo del PD, è stato eletto all'unanimità segretario provinciale dello stesso PD, parlo di Vito Antonacci, al quale auguro insieme a tutti di San Vito i migliori auguri per la festività di Vito di domani. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera, io chiamo dal quartiere San Paolo. Sì. E per più di un mese c'è stato un prango di cani nella stazione del tesoreo. Sì. E sono andato due volte dal capitano dei vigi urbani. Sì. E mi hanno detto che praticamente loro hanno fatto due fax alla USL e non riescono, perché il canino è pieno. La ringrazio per questa segnalazione ovviamente non è una competenza del presidente Schitulli, però magari ce ne facciamo noi carico come emittente, quindi cercheremo di allertare noi le persone competenti per poter risolvere più presto questa questione. Quindi c'è un branco di cani randaggi al quartiere San Paolo, nei pressi della stazione Tesoro. Ho preso appunti, quindi ce ne occuperemo noi come Telebari. Andiamo avanti. Andiamo avanti, 080 501 9998, oppure potete scriverci una mail all'indirizzo di lo Schitulli, chiocciolatelebari.it. Andiamo avanti sempre con una mail. A scriverci è un altro telespettatore che chiede, la società di trasporti provinciale ha indetto un concorso per autisti, i cui termini si sono ormai chiusi ad aprile del 2009. È stata assegnata la ditta che dovrà svolgere le preselezioni, l'azienda ha bisogno di autisti, ma non si capisce bene il motivo per il quale il suddetto concorso non venga espletato e si continuino a prendere interinali che oltre a costare molto non hanno partecipato a nessun concorso e quindi sono all'oscuro di tutte le procedure da fare, al di là della guida pura e semplice. La mia domanda è, il concorso si farà tanto per dimostrare se non altro che c'è una discontinuità con la vecchia gestione oppure anche con questa gestione non è cambiato nulla? I concorsi si faranno, questo è previsto nel piano e quindi saranno espletati tutti i concorsi. Per quanto riguarda, compatibilmente ovviamente sempre con i tagli della finanziaria e quant'altro, per quanto riguarda il servizio viene assicurato in attesa dell'esplettamento del concorso dagli interinali che comunque non costano più di coloro che sono vincitori di concorso. Andiamo avanti con un'altra mail, è una cittadina di Bari che ci scrive e dice signor Presidente mi rivolgo a lei perché è l'unica ancora di salvezza, mi sono rivolta a molti emittenti locali, a molti politici tra cui il sindaco affinché mi aiutassero ma in vano. Io e la mia famiglia viviamo in una situazione economica molto difficile, io e mio marito, invalido all'80%, siamo disoccupati, abbiamo due figli, uno di 4 anni, autistico con invalidità al 100%, l'altro studente di appena 18 anni. Circa due anni fa ho partecipato al bando per case popolari indette dal comune, ma ancora oggi sono in attesa per la consegna. La situazione è molto difficile perché vivo in una palazzina fatiscente e dichiarato dal comune inagibile. Circa un anno fa sono l'unica inquilina del palazzo, tutto ciò c'è da aggiungere che circa un anno fa ho ricevuto uno stratto esecutivo e chiede un appuntamento per incontrarla e soprattutto chiede un aiuto. Venga a trovarmi giovedì mattina alle 9 e un quarto. La signora Cosima ci scrive, quindi giovedì mattina alle 9 e un quarto. Andiamo avanti con le mail, è il signor Federico che ci scrive, tra l'altro il nostro fedelissimo telespettatore. Allora prendiamo prima questa telefonata, poi leggiamo l'altra mail. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Senta, io praticamente non sono la persona direttamente interessata, però mi interessa molto di questa persona. Io vorrei un incontro, se possibile, con il signor Schitulli, perché, le spiego, questa persona di cui le sto parlando è arrivata a 42 anni. E' invalido, invalida sua madre, non hanno nessuna entrata, non c'è possibilità di lavoro. Ora io mi chiedo, nel momento in cui viene a mancare mia madre, questa persona, chi se ne prenderà a carico? Siamo andati ovunque, è scritto il collocamento, sono passati anni da stare una buona gradatoria. Nel momento in cui si sta avvicinando tutto quanto? No, bisogna avere il diploma per fare anche il bidello oggi. C'è un'altra legge, siccome lui non ha mai lavorato, perché non ha mai avuto assunzioni, non può essere assunto, possono essere assunti, non è disoccupato lui, è una persona che non ha mai lavorato. Abbiamo chiesto appuntamento col sindaco, tutti in vani tentativi, è scritto alle liste speciali, anche lì in una buona gradatoria. Insomma, io vorrei parlare a cuore aperto con Schittulli e dire il caffio pietoso di questa persona, che è arrivato quasi a 43 anni, che ha una madre che sta lì, lì. Chi se ne prenderà cura? Come camperà? Come vivrà? Bisogna fare uno sproposito per essere aiutati? Scusate, ditemelo. Ciao! Ciao!